Anche per questo 2015 si sono conclusi, secondo le migliori aspettative, i festeggiamenti capitini in onore del patrono San Giacomo. Iniziati il giorno 21 luglio in aula consigliare, dove è stato presentato uno studio sul culto del santo. Continuati il 22 luglio, quando ha avuto luogo il corteo del vessillo aragonese, che ha ricordato il soggiorno di Pietro II d'Aragona, tra figuranti in costume d'epoca e sbandieratori, passando attraverso mostre e concorsi fotografici e vari eventi di animazione, il momento più atteso dei festeggiamenti è stato, come ogni anno, il giorno conclusivo. Il 26 luglio, a partire dalle ore 19, l'imponente percolo con la statua del santo portato a spalla da Fidelissimi è stato condotto in processione per le principali vie del paese. Del tutto particolare è senz'altro la tradizionale riproposizione annuale dei cosiddetti miracoli. Ed è proprio nella piazza denominata dei miracoli che, in ricordo dell'antica sconfitta subita dai saraceni asseragliati dentro il loro luogo di culto, sconfitta attribuita appunto ad un intervento miracoloso di San Giacomo, ogni anno la statua viene utilizzata, come se fosse una riete, per abbattere con le travi il muro di un'antica casetta. La protezione ha avuto termine senza problemi in tarda serata, quando tra i giochi pirotecnici e tanta emozione dei presenti, la statua è rientrata nel santuario che la conserva durante l'anno. Grazie a tutti!